Il problema è proprio questo, il cinema non è per persone medie, è questo il discorso. Però secondo me siamo bloccatissimi anche da un bigottismo che comunque ci portiamo sulle spalle e ne sentiamo il peso, soprattutto in Italia, che non è giusto che ci sia in questo mondo. Oggi parliamo di sesso nel cinema, no, quella era la prima puntata, questa è sesso nel cinema davvero, la prima Michele l'ha tiserato un po', ha messo a metà podcast, hai fatto capire quali sono i gusti, hai fatto capire che porco schifoso sei e scherzano ovviamente, ma però hai fatto capire che c'è un interesse anche su quel lato lì da parte, soprattutto tua, se ti piace di più sicuramente di... No, allora, lasciami il tempo di difendere la mia persona. Vabbè non è che ti sto attaccando, ti piace più il sesso degli altri. Non è, non è tanto nemmeno questo, non c'è una peculiarità o una, non so, una ricerca particolare nella cosa, semplicemente, ecco, come poi è venuto fuori negli altri podcast, nella persona che ricerca e ritrova magari un suo stile, un modo di comunicare o un interesse, nel cinema ho avuto un periodo, adesso comunque nel tempo si cresce, si scopre anche altro. I bollenti spiriti sono... Diciamo che i primi anni in cui mi sono appassionato anche al cinema, comunque a questo lavoro, trovare questa forma di comunicazione mi ha sempre stupito abbastanza, perché secondo me è un linguaggio utilizzato, ma a volte incompreso e soprattutto è più potente di quanto si pensi. Cioè io credo che la sessualità ovviamente faccia parte di ognuno di noi e molto spesso il fulcro è che molto spesso ci si racconta molto di più, in quel senso, nell'intimità, piuttosto che magari conversando. E questo nel cinema è la base, no? Quindi anche il show Don't Tell o anche, non so, piuttosto che far parlare per un quarto d'ora il nostro protagonista di sé, quello che ho sempre sostenuto io e di cui andremo a vedere oggi, è il fatto che probabilmente a volte una scena di sesso può raccontarci più del personaggio, se trattata nel modo giusto, piuttosto che uno spiegone o piuttosto che altre tante scene, no? Esatto. E qui la prima domanda. Qual è il modo giusto? Nel senso, apro un po' una parentesi a poi quello che è stato l'inizio dell'incipita anche di l'idea di questo podcast, di questo episodio e soprattutto del discorso che avevamo fatto nel primo podcast. Quando secondo te diventa troppo, o se non lo diventa, perché appunto secondo me ci sono visioni in generale un po' diverse di questa cosa qui, il rapporto cinema, quando diventa troppo l'erotismo o proprio appunto l'effettiva pornografia che ci può essere nel cinema per scavalcare quello show don't tell o quello scavalcare un vero e proprio senso di comunicazione. Allora, intanto stiamo parlando... Se c'è per te. No, no, allora certo, nel senso c'è ovviamente una differenza tra erotismo e pornografia, no? Proprio nel senso del termine. Nell'etimologia della parola c'è, proprio hanno due significati diversi. Di fatto io credo che, a parte che noi stiamo parlando della sessualità, del sesso, nel cinema, in senso come un racconto mediato tramite l'audiovisivo, in un certo senso. Ovvio che questi due termini trovano la loro distinzione nella parte di intrattenimento, cioè dove c'è pure intrattenimento pornografico, aggiungo, a scopo di lucro, ok? È una cosa dove c'è l'utilizzo della sessualità a scopo di narrare, ok? Qualcosa che va oltre solo l'intrattenimento sessuale, quindi pornografico, quindi in un certo senso anche lo stimolo dei nostri sensi, allora è tutt'altra cosa. Mi spiego meglio. C'è una parte di mercato che si basa solamente sullo scopo di eccitare o intrattenere l'ospettatore, il porno, come dicevo, a scopo di lucro. Che lì è proprio un'etichetta che è film pornografico. Esatto. Poi ovviamente ci sono degli autori che questa linea, non dico la varcano, anche dalla parte cinematografica, però sicuramente ci fluttuano sopra. Tanti, come dire, tipo Tinto Brass, è stato un regista comunque rinomato, molto seguito, e di fatto lui faceva cinema erotico, chi può dirli se era pornografico? No, sicuramente non c'erano piattaforme ai tempi streaming, dove c'era questa distinzione, quindi sei su Pornhub, sei porno, sei su Vimeo, sei cinema, no? Ai tempi c'erano le sale, perché c'erano anche le sale apposite, lui era indivalente su entrambe le parti, quindi chi può dire, faceva porno o faceva erotico? Sì, era già un tipo di cinema o di intrattenimento, appunto poi relativo a chi può vedere Tinto Brass proprio come cinema o più come intrattenimento, che sicuramente è più... Intrattenimento pornografico. Esatto, però era sicuramente a cavallo delle due cose. Il fatto è che adesso, di miratura su questa cosa qui, secondo me c'è una linea che si è sottigliata ancora, di più, perché, proprio come hai detto tu, la fruibilità è sempre più, come dire, relativa, nel senso che tante scene, per dire, anche quasi soft porn, le trovi praticamente anche su YouTube. Sì. E ci sono appunto cineasti che hanno, secondo me, varcato questa soglia con alcuni film e ti trovi proprio quel film che, secondo me, può essere tipo 70-30 tra porno e cinema e non è più un erotismo. Lì è proprio... tra il porno e il cinema, ma non è un film porno. Cioè, è quello il discorso, secondo me, perché se ti prendo, vabbè, esempio più soft del mondo, anzi, partiamo proprio dall'esempio che non è neanche porno, è una defibrillazione dei sensi sul lato proprio quasi dell'amore, in the mood for love, infatti. Da in the mood for love, fai a crescere, vai in air, dove c'hai una scena, il massimo che trovi, è una masturbazione, anzi, potrebbe essere un far l'amore con la I, quindi se senti gli orgasmi, senti queste cose qui. Tanto con voce incredibili. Infatti, secondo me, lì già siamo oltre tanti porno che ho visto, mamma mia, ma penso tutti quando vanno a vedere quelle scene sei un po' oltre anche molti film porno e poi, appunto, arrivi al vedere l'atto, quindi c'è dall'immaginario che si scinde e arrivi all'esplicito, no? Sì. Il discorso è, secondo me, molti appunto, me compreso, fanno un po' fatica poi a poter, come dire, differenziare quello che è comunque una mera e propria pellicola che va a utilizzare l'atto sessuale per gasarla e quelli che invece lo usano anche col fine narrativo. Sì, però ti faccio... C'è il discorso dell'altra volta, infatti, del quanto, secondo te, appunto, dovrebbe durare o comunque c'è, se c'è un limite nel discorso dell'atto sessuale. Cioè, se mi vedi una scena di un pompino che mi dura dieci minuti e sono dieci minuti solo di pompino, faccio un esempio. No, in generale, in un film. Tanto è in diversi film, però dieci minuti adesso ho esagerato, ma anche cinque minuti. Cinque minuti di pompino che non mi portano a nulla. Eh, però vedi, allora, dopo... L'esperienza del... No, no, non è l'esperienza. Vai, vai, vai. Ci sono, come dire, c'è la sensibilità del regista nel capire come usarlo e quando. C'è chi li riesce molto bene e magari, come dire, scrive o dirige il film che orbiti un po' attorno a tutta quella sfera lì, che poi appunto... Vabbè, altri invece che... Qual è il mio grosso problema? Qual è la tesi che sostengo io? Che di fatto oggi nel cinema molto spesso invece viene utilizzato l'amplesso come mero intrattenimento, cioè senza un secondo fine. Quindi io dico che piuttosto che vedere due attori famosi che vengono messi in una scena di intimità perché tra il loro rapporto a un certo punto scaturisci in quello così nel grande schermo fa scalpore o intratteni per quei tre minuti dove non si vede niente, non ci racconta niente più solamente sul o lui è un ganzo che se le porta a letto o si sono ritrovati lì per caso a farlo, tra l'altro molto spesso in maniera iperinnaturale. Oppure ci sono dei registi che dicono no, questi due arrivano ad avere una relazione di quel tipo, devono raccontarci qualcosa in quel momento, allora posso raccontarlo in una maniera piuttosto che un'altra, essere più esplicito, fare durare un fellazio 5-10 minuti in più, no? E poi la differenza nel senso l'atto di per sé o l'atto contestualizzato dove magari sei, per citare nessun film, in una cabina di un treno e magari nella cabina del treno più che vedere solo l'atto sei anche con il timore dell'essere scoperto e quindi magari aggiungere anche dei fegatelli dove il nostro soggetto è anche preoccupato della situazione quindi vai ad aggiungere un qualcosa che va oltre, come dire, l'atto in sé. Quindi c'è una bella differenza secondo me sul lato di comunicazione. Però per esempio, adesso andando sempre su uno degli autori più grandi tipo Gaspar Noé, te l'hai visto in Reversible? Con la Bellucci dove c'è la scena famosissima di stupro. Che è quella che quando uno cerca la Bellucci nuda gli viene fuori probabilmente. Non l'ho detto per me. È in generale la gente che... Io ho visto prima il film e poi ho... Ho capito la scena perché sono le classiche scene che ti mettono su YouPorn tipo Bellucci dal film. Però secondo te quella scena è fuori luogo? Non l'hai capita? No, ma lì è... Già poi per il fatto che me l'hai anche poi anticipato la cosa è quel fatto che è uno stupro appunto. Quindi vai anche a contestualizzare la cosa, vai a creare un dramma. Cioè è una cosa che in realtà porta valore narrativo bello anche pesante e definisce tanto... Tu mi hai fatto la domanda dicendo quando è... quando rimane in quei termini o quando dopo dieci minuti è troppo e quando è poco. Io ti chiedo, secondo te quella scena è giusta? No, è giusta. O è troppo corta? No, no, è giusta. O è troppo spinta? O è troppo poco spinta? Secondo me è giusta, in generale. È giusta. Cioè nel senso ha tutti i canoni per rientrare. Chiaramente deve avere un'etichetta, non tanto per un discorso di non farlo vedere ai bambini, però ha un'etichetta comunque che lo fa rientrare appunto nel semi pornografico, viene da dire. però per durata, per contesto, per messaggio, per tutto questo entra nel non troppo, a mio parere. Cioè nel non troppo nel senso proprio di... Ha un fine. Per molti invece... Eppure in realtà è una scena molto dura. Cioè è una scena che quando la vedi... Dura lunghezza o dura... Dura proprio anche a livello di... No, ma deve essere dura. Esatto, no? Ah, ma certo, no? Ora, lì non c'è del nudo esplicito, delle penetrazioni esplicite, però di fatto quello che penso io è che potrebbe dare più fastidio una scena di quel genere, dove di fatto di esplicito, vero, c'è meno, piuttosto che in altri film. Però invece è quasi più impattante. Quindi io non parlo... No, no, è chiaro. Di sesso non parlo di penetrazione... Per forza di penetrazione visiva o di altro, ok? Io parlo di sessualità delle... Infatti sono le due, secondo me, grandi distinzioni. Nel senso una, che forse è anche difficile farsi capire da questo punto di vista quando si parla di... di sesso, nel senso che c'è la paura di cadere sul... È troppo nel senso di... Oddio, non vogliamo vedere un pisello dentro una vagina o dà fastidio alla scena, tipo The Girl with Dragon Tattoo e in generale Fincher, secondo me. Fincher, tipo, prendo The Girl with Dragon Tattoo come... come può essere... È sempre uomini che odiano le donne, The Girl with Dragon Tattoo. No. Però tu mi sa di sì. Sì, no, in realtà mi sa di sì. È stato fatto a due registi diversi. Comunque io ti parlo di The Girl with Dragon Tattoo con... mi sta sfuggendo il nome, è la moglie di Joaquin Phoenix, che vabbè, cioè... Sì, è comunque The Girl with Dragon Tattoo, tipo, ha... ha delle scene di sesso come ha anche le scene di stupro, praticamente, The Girl with Dragon Tattoo, quello mi viene da dire originale, non rifatto appunto da... da Fincher. Ecco, lì sono nella categoria disturbante, nel senso del... ti fa capire il valore, cioè che non è un valore, scusami, ti fa capire la potenza che ha uno stupro su un personaggio, senza farti vedere specificamente la presentazione, vedi un culo, vedi delle forme, vedi della nudità, ma non vedi quello. A me personalmente appunto tocca molto più quello che vedere una scena di sesso, ma perché? Perché quando sei magari ragazzino, sei più preso da Ninfomaniac, per quanto anche Ninfomaniac Ninfomaniac ovviamente magari ha tutti i suoi ovviamente magari valori dietro ogni scena, però un Ninfomaniac è più esplisto sull'atto sessuale, meno secondo me lascia un po' più all'etere il fine magari di tutti quegli atti sessuali, che magari il film dove, oddio, c'è quella scena lì, ma anche It Mile, fin del cazzo, cioè sul lato, cioè non fin del cazzo, anche il film, nel senso è fatto anche bene, una bella fotografia per dire, è molto Detroit, si vede proprio bene, però è rappresentativo secondo me, però anche in It Mile c'hai tre scenette del cazzo di sesso, però per quello che rappresentano, che da una parte c'hai Eminem che si innamora di lei, quindi c'è questa scena di sesso in una fabbrica e ha un valore, dall'altra parte la becca che scopa col suo amico ha il valore del tradimento, quindi c'è cioè lì ti dico, lì c'è valore, è una via di mezzo, in senso prendete mai come blockbuster, se vogliamo, come film, che non è, oddio, non è definibile blockbuster secondo me proprio perché è un rating 16, però di fatto, cos'è, le scene che sono state, cioè la situazione che si sta inscenata di sesso in realtà è coerente magari col personaggio, quindi quella prima volta che lo fa con questa ragazza e come poi va a finire, no? Nel senso già lì c'è un piccolo collegamento, però cadi un po' in quello che ti dicevo prima, cioè Eminem si trova la ragazza, se la fa in fabbrica, wow, che figo. No, secondo me è l'interpretazione. Però quando io ti parlo della sessualità nel cinema a scopo narrativo è molto più profondo, è molto più radicato quello che vorrei far passare, capito? Cioè quelli sono quei film che sono meno beceri, cioè è meno becero l'utilizzo che ne è stato fatto come in Night Mile piuttosto che appunto in altri blockbuster dove ci sono loro che si attaccano e vanno a casa e fanno i fighi le statue greche nel letto, capito? Dove tutto è perfetto. D'altro canto dico sarebbe molto più interessante ma anche se anche se più duro ma a volte più nitida come immagine dell'esplicito perché secondo me c'è troppo pudore ancora nel cinema e soprattutto c'è stata una grande lotta per poter mostrare certe cose nel cinema negli anni perché inizialmente se tu avevi una scena di questo genere soprattutto in Italia venivi tagliato fuori da tutte le grandi sale possibili cioè c'erano le vostre sale le tue sale e basta le sale lucirosse e basta quindi a un certo punto io vi dico dato che siamo arrivati ad oggi dopo un percorso narrativo e artistico anche di questo tipo chi utilizza una scena di sesso dovrebbe essere più secondo me consapevole di quello che sta facendo e di quello che sta usando soprattutto perché presa sotto gamba rischi di non dargli la giusta importanza quando in realtà magari studiata un po' meglio il tuo personaggio può fare sol che bene ora non dico che tutti i film devono mostrare peni penetrazioni e altro però l'intimità il modo anche di mettere un bacio piuttosto che un altro è fondamentale uno dei miei film preferiti ora te ne cito uno io The Dreamers non so se è presente con Eva Green eccetera lì secondo me c'è la scena di bacio più bella una delle scene di bacio più belle della storia o almeno una delle mie preferite dove sono praticamente loro due che si stanno per baciare cosa succede? succede che lei si avvicina a lui in maniera anche un po' ingenua questi sono dei ragazzi i capelli lunghi cadono sulla candela che stava creando un'atmosfera super intima i capelli iniziano a prendere fuoco tra l'altro mi viene ancora da capire se è voluto o no perché l'ho vista mille volte e ha detto non capisco se era voluta oppure è successo per caso ma le sue capelli prendono fuoco lei si spaventa lui per non rovinare il momento prende i suoi capelli li spegne nulla si ferma continuano a guardarsi e poi si baciano cioè a quel punto ti dico cazzo questa qui stava per prendere fuoco chiunque nel caso avrebbe chiamato uno stop chiunque si sarebbe fermato messo a ridere eccetera pur di non rovinare il loro momento che ci hanno tirato lungo per tutto il film anche il fuoco non li ha fermati anzi l'hanno controllato questo non so se l'ha voluto sinceramente io vorrei farla vedere questa scena poi cioè capito dopo magari rimandiamo a questo dalla regia ce lo metteranno se possibile in overlay però comunque anche una scena di bacio messa nel contesto giusto e contestualizzata rende più molto più di un bacio a fine film ho visto l'altro giorno non so perché l'ho rivisto now you see me un film di maaghi terribile terribile ah è per quello che ti sei gasato con le carte no no anzi con lui stavo già film di merda no terribile penso non so se è più brutto l'uno o il due osceno tutto il film osceno chiudono il film con questi due bellozzi lui il più figone del gruppo e lei che è la new entry che si baciano davanti a tutti come dire ma si dai vieni qua non ha alcun senso io ti odio non metterci una roba del genere comunque per tornare a The Dreamers nello stesso film c'è una scena molto dura quando loro fanno sesso per la prima volta davanti al fratello lui scopre per la prima volta che lei in realtà è vergine nonostante le sue attrazioni le sue la sua la parte libertina no quasi sembrava lo facesse col fratello per intenderci e invece viene fuori durante questo amplesso per terra in cucina presi dal momento pieno di sangue che lui praticamente si mette in bocca e uno dice cazzo che schifo in realtà ti catapulta lì nel mentre loro provano schifo probabilmente io lì non ho provato schifo ho detto wow cazzo vabbè ma anzi se sei probabilmente sei ragazzino vergine guardi quella scena può farti impressione vabbè ma a tutti ha fatto un po' schifo la prima volta con la propria ma quanto è naturale certo è il bello è il bello di quello e lui non si aspettava niente lui che pensava di andare con una ragazza fatta e finita scopre la prima volta che è sotto gli si è sbattuta la realtà in faccia dice ma e lì arrivi a essere umano e allora ti dico perché devi utilizzare queste scene utilizzare il sesso in maniera superficiale quando in realtà in quei momenti invece puoi raccontare molto di più ma riesci ma tu riesci a cittarmi ah ah è cambiata la back ma va bene è il bello della diretta tu riesci a cittarmi qualcosa che secondo te è banale cioè qualche scena banale o quando ti è risultato eccessivamente banale l'utilizzo beh che forse ci sarebbe ci sarebbe quasi un'infinità cioè allora non citando appunto il film medio perché in realtà appunto nel film medio o nel blockbuster la scena di sesso che non è esplicita è un filler proprio per fare ah hanno trombato fine ok invece da lì in poi stanno insieme esatto invece no che è giustificabile magari per alcuni pubblici nel senso che anche lì il rating del film è per magari bambini devi farlo capire agli adulti fai vedere che direttamente sono a letto con la coperta su e va bene ok però vai già a prendere un film più maturo vai già a prendere un film non più maturo più più intenso se lo vai a mettere allora ti può venire in mente di un film che sta nel genere erotico ora non mi viene proprio in mente però nel film che è considerato blockbuster secondo me tipo tutti 007 cioè lei nuda con un velino ma non è che è superfluo beh ma lì deve lui è la figura del chiavatore del chiavatore però vuoi che non ci sia un modo migliore per raccontarlo piuttosto che farli fare farsi la solita ragazza a un certo punto ma lì il problema dov'è è che entri fuori no bravo però il discorso è che tu esci secondo me fuori anche da una parte fuori target pubblico perché chi guarda adesso non è che voglio dire è una merda che guarda 007 per carità è un bellissimo filone però ad oggi è diventato un filone molto più becero secondo me senza togliere nulla non mi viene il suo nome ma vabbè avete capito chi è no 007 e l'attore l'attore non mi viene il nome vabbè bravissimo attore per essere però ha un target di pubblico secondo me Daniel Craig esatto ha un target di pubblico che secondo me non lui 007 è un tipo di film che ha un target di pubblico che vuole vedere quello vuole vedere il chiamatore è un po' è questa la mia crociata capito giusto la capisco ma basta cercare almeno intrattenimento ma la crociata è che è una crociata che dovrebbe andare molto oltre nel senso che quello che tu dici però va anche a purtroppo in realtà a combattere a battere dei muri che sono i muri di genere che secondo me della gente cerca anche dei safe spot cioè ti guardi il signore degli anelli in una situazione così perché sai che non c'è la penetrazione il signore degli anelli con la penetrazione non sarebbe il signore degli anelli cioè diventerebbe meno safe zone però non c'è non c'è no ma è giusto capito quello che dice è fan service capito c'è di qua prendi la cosa come si chiama che 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 tu prendi la bella quella di Blade Runner 2000 2049 che è anche che è anche appunto nell'ultimo 007 vabbè il discorso è prendi la strafiga la metti nel letto fai vedere un pezzo di culo che tra l'altro non è lei con il letto ma vabbè fai vedere un pezzo di culo e hai pagato la bill per utilizzare lei hai fatto vedere due chiappe e tu ti paghi ho visto due chiappe di in quel film bello no però c'è chi lo vuole eh ma c'è chi lo vuole ma te sto dicendo capisco capisco piuttosto dico no no infatti io faccio un ragionamento prettamente a chi ragiona a fine commerciale poi sono d'accordo con te nel senso se dovessi se dovessi sicuramente prendere posizione sai assolutamente dalla tua parte nel senso che capisco la cosa perché non dà nessun tipo di valore a vedere lui che è il bellozzone chiavatore elimini quella scena e comunque il bellozzone chiavatore è comunque così o può essere un bellozzone chiavatore che però bello bellozzone chiavatore mi piace non so ha qualche tipo di perversione particolare e quindi non si trova con la tipa non perché a un certo punto lei decide che lui la farà stare male nel mondo e dice tu mi tratterai mai allora io non vengo a letta ma i registi secondo me hanno quando entri anche in una carriera del genere i registi hanno paura secondo me di prendersi le responsabilità è chiaro final 007 dove elimini quella scena ma lui guarda in modo strano una bambina aia quanto flame c'è in giro e tu dici cambiato 007 diventato un perverso schifoso esatto uno stupratore orribile ma ma ho innestato qualcosa di interessante però tipo ti dico ho innestato qualcosa di interessante brutto ma interessante andiamo su tu prima hai citato nymphomaniac yeah che di fatto è un film io devo ancora capire lì no 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 devo capire lì perché c'è non è ancora chiarissimo se tutti si sono fatti sfondare in quel film dove quando controfigure quando controfigure è un po' inoletto ho detto quanto controfigure per farti capire una scena specifica quale i due ragazzi lì non è mai stato chiarito qualcuno dice io lei non riesco più a vederla con gli stessi di fatto nella scena c'è una totale dove si vede effettivamente lei lei non ha mai negato qualcuno dice che era una controfigura lì è rimasto è rimasto un po' nel dubbio secondo me era lei senza problemi alla tua cioè di fatto quando decidi fare un film del genere vabbè lì è oltre il genere lì è proprio però tipo lo stesso Lars si pezzi per strada per dei giorni probabilmente lo stesso Lars ha citato comunque delle organi femminili di plastica eccetera ma immagino non tutti siano stati a proprio agio sempre nel senso che comunque però fa parte del cinema ma quante cose tu hai che non magari lì per lì non ti mettono a tuo agio però se sei un attore professionista beh lì ci sono anche delle ovviamente parlando sul lato femminile delle chiusure che anche a livello pratico se tu vuoi non puoi comandarle e lato maschile è lo stesso modo delle delle possibilità delle delle possibilità che magari possono non devi girare lì ci vuole il professionista anche perché l'attore pornografico l'attore pornografico non perché ha la beca grande ma perché la sa usare che anche un mito sfattato non è neanche così perché ci sono dei mille scantaggi che non fanno parte però della narrazione quello è un backstage interessante capire poi com'è il making of però di fatto io ho tirato fuori l'infomaniac e Lars von Trier per due motivi secondo me l'infomaniac ha veramente poche scene fuori luogo quasi tutte necessarie poche superbe soprattutto perché la narrazione si basa su quello e secondo me viene toccato il tema della sessualità in questo caso anche di un quasi una malattia cioè lei è l'infomane e passa la sua vita a cercare di combattere con queste necessità e quindi ne trovo tra l'altro con tutte le metafore che ci viene dentro per me è l'emblema del sesso metaforico del sesso narrativo porca troia ogni scena che lui ci mostra viene contestualizzata a volte anche troppo perché poi c'è lo spiegone praticamente del prete di Opo e altri invece che ho trovato meno sensate in Antichrist quando Defoe sborra sangue capito dico bello lì è l'emblema del climax della situazione lui è impazzito l'è impazzita non riesce a più controllarsi lui non però dico questo sono cioè questo è grande questo l'hai fatto per il cinema l'hai fatto per gli ispettori per fare il fatto wow sono ora ti faccio sangue di fatto lì secondo me dopo è anche un po' un discorso di quello che vuoi comunicare dietro dietro al semplice sborra sangue sì ma è quello che ti sto dicendo è tutto lì anche perché a mio personale parere dico come è nato non ho mai sborra sangue non so te non ho mai sborra sangue non lo so stanno in due parti diverse potrebbe essere possibile se hai una serve da fare ricerca no anche quello fai ricerca come viene quella scena dove lui palesemente non si trova a suo agio in quella situazione lei è fuori di sé stanno venendo dei collegamenti anche all'oscuro palesati uno non si ritrova non è possibile nemmeno che lui sia eccitato secondo me in quel momento per dirti fino a all'ejaculazione cerchiamo di tornare con termini un pelo meno volgari però per esempio non mi dà fastidio quella scena cioè quel momento lì perché ci può stare che arrivi una cosa del genere soprattutto per come è aperto il film che è poesia arte bellissimo presi dalla relazione succede un disastro sotto la colonna sonora perfetto lui ha fatto cult arrivi hai quel momento che veramente mi fa un atto del genere così poco umano così poco realistico in un certo senso io gli ho detto wow poi ci ho ripensato ho detto ma che ma che cazzo eh ma lì secondo me è quel velo di arte contemporanea che secondo me è presente poi in queste opere che è tutto dedicato all'interpretazione secondo me dopo lì appunto c'è chi tocca di più c'è chi tocca di meno c'è chi addirittura te lo può lo può chiamare alla banalità o al completamente fuori luogo ci sta però appunto per me lì è proprio interpretazione nel senso sono quelle cose che hanno una linea appunto interpretabilità nel senso non è io non riuscirei a dare una cioè a a dire a non eliminare a definire ecco in un modo definitivo come dire una scena del genere come banalità o non banalità o come non non adatta ecco lo so si può essere qualcosa dietro addirittura se volessi andare sul tecnico appunto potrei veramente ricercare se una cosa del genere è possibile ma magari magari è proprio possibile per diventa una scena grottesca cioè capito quando tu mi stai lavorando tutto su un film su un piano esoterico filosofico anche se vogliamo un po' poetico ci sono le ispezioni in ultra slow motion sono ultra poesia e super metafora della situazione cioè lì secondo me passi un po' dall'altra parte questo per dirti sostenendo un po' la tua tesi del fatto che non è che chiunque lavora con la sessualità come ha fatto Darson Tero un maestro in questo anche in Dogville eccetera è per forza tutto giusto quello che fa cioè anche in mezzo ad un film semi erotico una scena può essere coerente o meno questo perché proprio ci racconta le situazioni per intenderci io quel momento lì l'ho visto come uno sviluppo del personaggio talmente drastico e fuori contesto che puoi mettere puoi paragonarlo a a Teneries Targaryen quando impastisce e distrugge tutto in capito in Game of Thrones per dire ah non si capisce perché lei a un certo punto impastisce e diventa matta e fa tutta sta roba uguale cioè in quelle situazioni io ho perso con le differenze che da una parte c'è un'opera dall'altra c'è un'opera che è evoluta in una maniera drasticamente veloce menta fredda e nel senso che tipo Game of Thrones secondo me è un po' una rasciata dovuta anche al assolutamente Fabio perché per me it's my cocaine grazie cioè Game of Thrones è un rasciare una serie perché effettivamente cioè dovevano rasciarla cioè non doveva succedere quello non doveva succedere così ma proprio non doveva perché non è scritto così e lì secondo me è diverso il contesto perché parli di un film da una parte e dall'altra hai una serie ecco che anzi la serie sarebbe più giustificata avere del tempo per e c'è lì è stato un rush però sì però ha capito quello che dico io è che personalmente ma credo che lo sarebbe per tutti se venisse un attimo approfondita questo tema è un po' visto in maniera differente dal solito intrattenimento a dire grande schermo due si amano fa un sesso c'è tre minuti di scena dove probabilmente lui ha erezione e eiaculazione in un minuto e mezzo non sa come perché da dove cioè iniziano a baciarsi sono hanno finito un secondo dopo quello che dico è se riusciamo noi prima di tutto noi del settore noi complasma noi complasma noi del settore ma anche chi spettatore o fruttore di cinema andare oltre a questa cosa vedrai poi che le scene che ti rimangono nei film giusti in cui viene utilizzato bene le scene che ti rimangono più impresse e ti colpiscono di più ma non come stupore o come dramma ma come momento narrativo anche di climax sono quelle lì sono le scene di intimità sono le scene che più o meno spinte raccontano il personaggio nella sua sfera più intima possibile metti anche solo ultimo tango a Parigi una storia d'amore della madonna bellissima dove però a un certo punto lui preso dai suoi stinti probabilmente grezzi animali come dire è giusto usa quello più cioè nel senso si proietta su di lei in maniera meno consona ok e lì dici ma come la possiede e dici ma come scusa ma allora ho intuito male tutto fino a questo punto ti mette in crisi anche lo spettatore e sei lì che dici allora allora non è vero amore però non è questo il cinema porsi domande bravissimo e allora perché ti sto dicendo che di quel film una di quelle scene mi dice molto di più piuttosto che un litigio dove succedono migliaia altre cose no ma come ti dicevo che non è sempre in air che prima dicevo di quando hanno il loro rapporto virtuale bellissimo tra l'altro anche lì perché è solo vocale esatto quando invece lui a quel momento che lei si è scollegata che sta facendo l'aggiornamento che casca per terra che perde l'airpod e quando si riconnettono che c'è quel momento a non so sarà stato T09 dove c'è lui vestito di giallo che fa ma mi devi dire qualcosa quindi c'è quel momento di tensione tipo che lei dice eh ci stanno evolvendo le cose lui c'è lì che le chiede hai una relazione con un altro con quanti altri è bellissimo è quel momento per me R è stupenda ma è quello R è un'opera stupenda perché R è tutto quello è tutto show don't tell è tutto sì è tutto show don't tell è tutto neanche show don't tell è fai capire bravo è tutto far capire ma quello secondo me è la base cioè quello ti fa capire che quello che sto dicendo lì è emblematico il concetto che non serve per forza la penetrazione può anche non esserci il corpo no no certo capisci assolutamente ma loro sono comunque in quella scena particolare in un'intimità di un certo tipo sono andati oltre al facciamo sesso telefonico perché così la gente si gasa vabbè amiche allargandolo è come chi dice che è Death Stranding e Bartolini Simulator cioè nel senso è proprio sì perché porti pacchi va bene allora uno ha la relazione con la I fine però molto di più perché è la persona media è la visione della persona media il problema è proprio questo il cinema non è per persone medie cioè questo è il discorso però secondo me siamo bloccatissimi anche da un bigottismo e un capito che comunque ci portiamo sulle spalle e ne sentiamo il peso soprattutto in Italia che non è giusto che sia che ci sia in questo in questo mondo vabbè certo però il problema è che cioè è vero è una un'estirpazione di un veleno e di un male molto difficile sono irreale da fare anche perché veniamo da un cinema erotico italiano dove la dottoressa alla visita dei militari cioè quei quei film con Lino Banfi e un Friends che era un quello erotico idiota stupido per carità io la commissaria italiana l'amo nel suo senso di come posso amare il nonno di un mio amico che però ha non lo so ha mentalmente delle simpatie di destra piuttosto che altro che dici vabbè un vesto poverina così nel senso però ti vuoi bene dai una carezza in testa infatti ovviamente non è che dobbiamo demonizzare no no per me non è demonizzare ma è assolutamente e non è neanche secondo me fare una crociata perché appunto è un estremo ma è un far aprire gli occhi a quello che effettivamente è di valore che è questo di cui stiamo parlando e non è sicuramente dall'altra parte l'esplicito e ancora prima secondo me un far percepire come secondo me in un percorso visto che comunque stiamo facendo tutti questi podcast anche per filmmaker o comunque per terzi come anche nel realizzare proprie opere una persona che sta facendo il suo primo corto il suo primo progetto e vuole far capire qualcosa tenere conto dello show don't tell ma dall'altra parte non esagerare nel senso che deve essere conscio di quello che fa nel senso che l'altro problema è molti fanno il loro primo corto le loro prime esperienze e scimmiottano scimmiottano troppo beh si sta però dopo lì ci sono due piccole cose una che comunque uno deve permettersi di provare e sbagliare assolutamente ma deve sbagliare dall'altra parte dici non cercare di mettere delle scene che puntano a dare fastidio solo per ostentare uno stile registico che sembri maturo e quanti lo fanno ma non solo nel sesso ovviamente non solo nelle scene sessuali lo fanno con le parti drammatiche la depressione lo fanno con scene magari che danno fastidio da un punto di vista magari di splattern o altro solo per ostentare un qualcosa che dici guarda il mio carattere quanto è già consolidato e magari prendono scivolone poi sono dei linguaggi che secondo me uno deve studiare quindi se ovviamente non è che deve essere tutto preciso cioè provate però la mia quello che volevo dire dall'inizio è teniamo conto della sessualità come mezzo di comunicazione davvero potente e molto umano usato bene funziona molto più di qualsiasi altre tipologie di scena che può descrivere il nostro personaggio questo è la grande cosa trovandomi poi d'accordo con te alla fine di questa piccola discussione su questo punto anche se inizialmente eravamo un po' più distanti secondo me era semplicemente parlarne nel senso che si concretizza tutto in questo infatti penso che in realtà siamo d'accordo anche perché entrambi abbiamo parlato la stessa cosa nel senso dell'atto con un fine se tu mi vuoi far vedere l'atto che ha un fine e chi lascia qualcosa bene se ha un atto senza senso soprattutto se come dire piazzato lì il culo con un velo sopra non mi serve niente ed è inutile e non lo metterei ma secondo me moriranno da soli nel senso che secondo me è il concetto che ma sei perché moriranno da soli scusa chiudo la mia perché perché la Gen Z è molto più abituata già la Gen Z ha la tetta e il culo cioè quando noi eravamo piccoli ma è il mondo che ci fosse una tetta in tv ci capitava come era dei videoclip tipo dei rapper mettevano un botto di scene perché su MTV era l'unico modo poi per essere visti e fai passare perché dicevano oh cazzo dei culi bello non vedi nessuna parte li vedi su MTV c'è il cantante di un gruppo della zona che è anche avuto successo di cui suonava la chitarra un nostro collega di qua ti dirò dopo off camera che venne da me in studio disse io mi facevo le s***e nelle pubblicità delle lamette quando si definavano le gambe mi fece morire perché era la verità era la verità quando avevi dieci anni undici anni non so quando hai le prime pulsioni sessuali sei lì e dici oh che cos'è questa roba vedo due cosce per la prima volta però adesso invece a due anni ce ne ha già lì ste cosce adesso ti stuzzico porca troia la fantasia per chiuderti stuzzico un po' con questa cosa qua riflettendo sul da dove siamo partiti quindi la differenza tra la pornografia e proprio l'erotico secondo te a sto punto la star del momento con una scena con di topless o di velo su un sedere scoperto come fan service per mostrare vendere di più non è a questo punto più pornografico che un film erotico a sfondo sessuale ma con una narrativa incentrata e con uno sviluppo del personaggio incentrato su quella cosa lì non è più erotico non è più pornografico a sto punto un fan service di una Scarlett Johansson in topless che te lo mette lì solo per fare scalpore per dire ah oddio hanno fatto questo qua dobbiamo vederlo piuttosto che di un film anche con attori sconosciuti o comunque con uno sviluppo del personaggio uno sviluppo narrativo incentrato sulla sessualità sì ma è una cosa che secondo me comunque morirà nel breve ti dico anche perché adesso il discorso è che c'hai l'hai che come dire realisticamente non c'è più il discorso del voglio vedere quella persona famosa senza veli perché la trovi già sai già chi prende i porno e fai i face swap con le modelle le celebrità questo è un altro ma che te c'è c'è e c'è da anni in realtà c'è già da 2-3 anni il futuro secondo me da questo lato qui è la gente che vuol vedere la sua vicina di casa il revenge porn è diventato super mainstream però quello che però quello che dici tu dell'è più porno secondo me sì adesso ma no ma sta già smettendo di esserlo perché non c'è più questa richiesta in quanto è già speriamo io lo spero tanto e ci chiudiamo questa puntata con questo augurio noi faremo del nostro meglio noi faremo del nostro meglio per non sminuire questo mezzo questo mezzo di comunicazione di narrativo potentissimo sperando di avervi passato un po' di questa sensibilità anche a voi e magari magari tra l'altro la pensate come noi oppure no se avete piacere di condividere qualche film o qualche scena che reputate interessante sotto questo aspetto scrivetecela io sarei molto molto curioso di aprire un dibattito magari toccarne qualcun altro magari nei commenti vi rispondiamo o vi rispondo io direttamente molto volentieri ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ragazzi ciao